Ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il cotone fiocco della Tresfere. Sono gomitoli da 50 grammi e il filo è lungo 125 metri. Per quanto riguarda l'uncinetto indicato e i ferri indicati vanno dal 2,5 al 4. Io andrò a lavorare con il 3,5. Poi dipende dalla mano che voi avete fate un piccolo campioncino e vi rendete conto con che uncinetto potete lavorare. È un cotone molto lucido, si lavora benissimo, è un cotone molto resistente. È indicato per sia capi di abbigliamento ma si possono lavorare anche borse oppure si possono lavorare anche centrini o accessori per arredamento. Detto ciò possiamo iniziare con il tutorial. Prima di iniziare vi dico cosa dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare a pannelli, quindi ci serve un pannello del davanti e un pannello del dietro. Dobbiamo prendere la nostra circonferenza, quella più sporgente che può essere del bacino o del seno e dividere a metà. Il multiplo del motivo, un motivo molto semplice, è di 3 più 2. Ho proseguito per 32 cm e poi ho diviso il pannello a metà formando lo scalfo, ho fatto delle riduzioni sullo scalfo e delle riduzioni sul centro del davanti per far venire questa scollatura a V e ho proseguito per 18 cm formando una piccola bredellina di 9 cm. Ho lavorato allo stesso modo da un lato e dall'altro e anche dietro vado a fare la stessa cosa. Per quanto riguarda la scollatura io ho iniziato a 18 cm anche, quindi come ho diminuito sullo scalfo ho fatto delle diminuzioni anche sul centro del davanti. Adesso iniziamo il pannello del dietro e lo lavoriamo insieme. Ora vi faccio vedere con un campione come dobbiamo lavorare il punto. Il punto è un multiplo di 3 più 2. Nel lavoro originale io ho avviato 66 catenelle più 2. Sto lavorando una taglia M. L'uncinetto che sto usando è l'uncinetto del 3,5. 66 catenelle più 2 nel mio caso corrispondono a 45-46 cm. Se dovete avviare una catenella che corrisponde a una taglia L, basta aggiungere 3 e alla fine 2. Quindi potete aggiungere due motivi, quindi fate 3 più 3 più 2. Lavorate una catenella non molto stretta, altrimenti il sotto viene più stretto e quindi dà fastidio e il sopra viene più largo. Quindi una catenella un po' più larga. Avviate le mie catenelle. Nel progetto originale sono 66, aggiungo 2. 1 e 2. Non lavoro sulla prima catenella ma vado sulla seconda dell'uncinetto. Lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Questa è la mia prima maglia alta. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Salto 2 catenelle di base 1 e 2. Vado nella terza e lavoro 3 maglie alte prese nello stesso punto. Quindi nella stessa catenella lavoro 3 maglie alte. Il motivo che dobbiamo ripetere è questo. Quindi filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza catenella e all'interno lavoro 1, rientro 2, rientro 3. Salto 1 e 2 nella terza catenella, di nuovo 1, 1, 2 e 3. Il primo giro dobbiamo ripetere queste 3 maglie alte saltando 2 catenelle di base. quindi salto 1 e 2 nella terza e lavoro 1, 2 e 3. Vado a concludere il giro come abbiamo iniziato. Quindi nella terza catenella lavoro solo 2 maglie alte. Non vado a lavorare il motivo intero, altrimenti viene troppo largo. Invece così laterali vengono dritti. Questo è il primo giro. Adesso giriamo il lavoro e iniziamo sempre con una maglia alta. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto, lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Queste sostituiscono la mia prima maglia alta. Non inizio con 3 catenelle, altrimenti non viene stabile il laterale. Nella stessa maglia alta sottostante lavoro un'altra maglia alta. Anche qui iniziamo con 2 maglie alte lavorate nello stesso punto. Vado sulla maglia centrale, quindi non la prima, ma sulla seconda maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella, rientro nello stesso punto maglia alta. Nel secondo giro andiamo a lavorare un punto V che consiste in una maglia alta, catenella e maglia alta e l'andiamo a lavorare sulla maglia centrale del motivo sottostante. Quindi entro sulla maglia centrale lavoro maglia alta, catenella, rientro nello stesso punto maglia alta. Qui ho il motivo sulla maglia centrale, lavoro maglia alta, catenella, rientro nello stesso punto maglia alta. Vado a fianco sul motivo, a fianco e sulla maglia centrale lavoro maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a ripetere per tutta la riga. Abbiamo terminato il secondo motivo e terminiamo sempre con sulla seconda maglia alta con 2 maglie lavorate nello stesso punto. Dobbiamo lavorare il giro numero 3 che sono delle semplici maglie alte. Quindi in ogni maglia alta e anche nella catenella andiamo a lavorare una maglia alta. il 3 e il 4 sono uguali. Quindi vado a girare il lavoro, mi alzo con una catenella, rientro lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Questa è la mia prima maglia alta. Sulla maglia alta a fianco lavoro un'altra maglia alta. Qui ho il punto V. Sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta. nella catenella una maglia alta. Nella catenella una maglia alta. Nella catenella un'altra maglia alta. A fianco un altro punto V. Quindi sulla maglia alta lavoro una maglia alta. Nella catenella una maglia alta. e sulla maglia alta una maglia alta. Quindi andiamo ad occupare tutte le maglie alte disponibili e lavoriamo anche nella catenella di separazione. Vado a lavorare le ultime due maglie alte. Uno e due. Devo ripetere il giro numero 3. Quindi giro il lavoro. Devo lavorare maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Come si presentano le maglie sotto così dobbiamo lavorare su. Vado a fianco una maglia alta. Vado a fianco maglia alta. Questi sono i giri che dobbiamo ripetere fino alla nostra lunghezza. Vi faccio rivedere come ripartire visto che abbiamo una base diversa. E come dobbiamo proseguire. Questo è il motivo che inizia a prendere forma. Adesso dobbiamo ripetere dal giro numero 1. Dove dobbiamo lavorare 3 maglie alte saltando 2 maglie di base. Poi il giro numero 2 e il 3 e 4 sono uguali. Dobbiamo proseguire per la nostra lunghezza. Iniziamo sempre con una maglia alta che io sostituisco con una catenella. Rientro maglia bassa più 2 catenelle. Rientro nello stesso punto. Lavoro una maglia alta. Salto 1 e 2 e vado nella terza maglia alta per lavorare all'interno 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Salto 1 e 2 vado a fianco nella terza maglia alta e lavoro 3 maglie alte prese nello stesso punto. Salto 1 e 2 vado nella terza e lavoro una maglia alta. Rientro una seconda maglia alta. Rientro una terza maglia alta. E questo è il motivo del giro numero 1. Nel giro numero 2 dobbiamo lavorare il punto V. Iniziamo sempre con 2 maglie alte lavorate nella prima maglia alta. Sulla maglia centrale lavoreremo maglia alta, catenella e maglia alta. Ci spostiamo sull'altro motivo. Sulla maglia centrale lavoriamo maglia alta, catenella e maglia alta. Come abbiamo fatto nel giro numero 2. Nel giro numero 3 andiamo a lavorare delle maglie alte in ogni maglia alta sottostante anche nella catenella di separazione. Un motivo molto semplice che si ripete. Andate avanti e vi faccio rivedere come iniziare dal giro numero 2. Lavoriamo il giro dei punti V. Lavoriamo sempre una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Rientriamo, lavoriamo 2. Ci spostiamo sul motivo e sulla maglia centrale lavoriamo maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Vado sul motivo a fianco, sulla maglia centrale, maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a fianco sulla maglia centrale, maglia alta, catenella e maglia alta. E vado a proseguire per tutta la riga. Nel giro successivo su ogni maglia alta sottostante lavoriamo una maglia alta e una anche nella catenella. Il giro numero 4 ripetiamo le maglie alte come abbiamo sotto, quindi maglie alte consecutive. E dobbiamo ripetere questo, nel mio caso sono arrivata a 32 cm. Se volete la maglia più lunga andate avanti con i giri. Ho lavorato il mio pannello del davanti per 32 cm e questo è il risultato. È un punto molto semplice, può essere riprodotto anche dalle principianti. Una volta che ho proseguito la lavorazione ho lavorato per 32 cm. Se volete la canotta più lunga proseguite con i giri. Mi sono fermata con i giri delle maglie alte. Ho trovato la metà e adesso vado a lavorare le due parti separatamente perché voglio andare a lavorare una scollatura V. E poi anche qui vado a fare delle diminuzioni per formare il mio scalfo. Per trovare la metà ho misurate o contate le maglie alte o i motivi. Una volta che ho diviso a metà vado a lavorare questa mia prima metà. Quindi io vado a fare delle diminuzioni sullo scalfo per due giri e anche qui sul davanti. Se casomai voi non volete una scollatura più profonda andate a diminuire prima sullo scalfo e poi lavorate due giri perché io vado a fare solo due giri di diminuzioni per lo scalfo e andate a diminuire sul davanti. Nel mio caso vado a lavorare uno scalfo di 18 cm. Se avete una taglia L vi allungate per 20 cm. Vado a girare il mio lavoro e vado a riprendere il giro numero 1 che è il giro delle tre maglie alte saltando due maglie di base. E a questo punto vado a fare delle maglie bassissime e mi porto sulla terza maglia alta. Quindi vado a camminare sulla terza maglia alta. Vado sulla quarta maglia alta questo per far venire il motivo giusto da una parte e dall'altra. Quindi saltando le tre maglie alte vado sulla quarta quindi 1 2 3 sulla quarta mi alzo con una catenella rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Non lavoro due maglie alte ma ne lavoro uno perché stiamo facendo una diminuzione. Salto 1 e 2 vado sulla terza maglia alta e lavoro le tre maglie alte come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi andiamo a saltare 3 maglie alte camminando con le maglie bassissime sulla quarta maglia alta lavoriamo la prima maglia alta poi saltiamo due e sulla terza maglia alta lavoriamo il motivo. La stessa cosa faremo anche dall'altra parte quindi salto 1 2 vado sulla terza lavoro maglia alta rientro una seconda maglia alta rientro una terza maglia alta. Salto 1 e 2 se casomai vi trovate a fare le diminuzione sulle maglie alte vado sulla quarta maglia alta lavorate la diminuzione. Salto 1 2 è la terza lavoro maglia alta rientro maglia alta rientro maglia alta proseguite il motivo e ci vediamo quando arriviamo dove ho messo il segno. Mi ritrovo dove ho messo il segno qui significa che dobbiamo fare la diminuzione della scollatura ho lavorato i gruppetti di tre maglie alte questo è l'ultimo gruppetto salto 2 e vado a fare come abbiamo iniziato una maglia alta qui dove ho il segno anche qui abbiamo fatto una diminuzione. Devo lavorare il giro del punto v e qui vado a girare il lavoro andiamo a fare un'altra diminuzione anche qui quindi lavoro una maglia bassa nella maglia alta sottostante più due catenelle queste sostituiscono la mia prima maglia alta. Qui non vado a fare il punto v ma sulla maglia centrale vado a lavorare solo una maglia alta e anche qui abbiamo fatto una diminuzione. Ora lavoro il punto v normalmente quindi sulla maglia centrale lavoro maglia alta catenella e maglia alta. Vado a fianco maglia alta sulla maglia centrale catenella e maglia alta vado a proseguire questo fino ad arrivare dall'altra parte dello scalfo. Mi ritrovo sul laterale quindi devo fare l'ultima diminuzione per quanto riguarda lo scalfo. Vado sul gruppetto di tre maglie alte qui lavoro una maglia alta dove ho le due catenelle della diminuzione della maglia che abbiamo lavorato inizialmente lavoro un'altra maglia alta. E qui abbiamo fatto un'altra diminuzione sullo scalfo mi fermo con le diminuzioni non vado oltre invece qui vado a fare delle diminuzioni fino ad arrivare a una bredella di nove centimetri. Quindi giro il lavoro qui inizio normale inizio normale inizio a lavorare dritto quindi maglia alta due catenelle e a fianco una maglia alta. Vado a fianco lavoro una maglia alta questo è il giro delle maglie alte nella catenella una maglia alta a fianco maglia alta. Vado a fianco maglia alta e proseguo questo fino ad arrivare sul centro del davanti per continuare a diminuire. Mi ritrovo sul centro del davanti e qui vado a fare una diminuzione. Entro nella maglia alta sottostante e chiudo una volta l'asola. Filo sull'uncinetto vado sulla maglia alta sulla seconda catenella dove abbiamo fatto l'altra diminuzione e vado a chiudere di nuovo tutto insieme. Questa è un'altra diminuzione. Come vedete questa è la linea che inizia a prendere forma. Giro il lavoro. Qui mi alzo con due catenelle perché vado a fare una diminuzione. Filo sull'uncinetto vado sulla maglia alta subito dopo a fianco e vado a lavorare una maglia alta. Vedete come va la linea obliqua? Vado a ripetere il giro delle maglie alte. Quando arrivo dall'altra parte dello scalfo non vado a diminuire ma lavoro le maglie alte come si presentano. Quindi una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Come ci troviamo qui? Una maglia alta qui, una maglia alta qui. Seguendo la lavorazione questa è la parte dello scalfo e questa è la scollatura. Quindi da adesso in poi sulla parte del fianco dove abbiamo fatto lo scalfo lavoreremo come abbiamo lavorato tutto il nostro pezzo. Inizieremo con le maglie alte sempre dritte e quando abbiamo i motivi di tre maglie alte il punto V iniziamo sempre con due maglie alte nella stessa maglia di base. E poi ci spostiamo di due catenelle e nella terza lavoriamo il motivo normale. Qui andiamo a fare delle diminuzioni come abbiamo fatto sotto. Quindi dobbiamo ripetere le diminuzioni come abbiamo fatto sotto. Adesso ci ritroviamo con il motivo di tre maglie alte. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro due catenelle e un'altra maglia alta. Quindi qui non è cambiato niente. Andiamo a saltare due maglie di base e nella terza lavoriamo le tre maglie alte. Quindi salto due, nella terza lavoro tre maglie alte. Mi ritrovo sul centro del davanti e lavorando il motivo devo fare uno, due e tre. Quindi sulla terza maglia alta devo lavorare tre maglie alte. Però siccome non mi ritrovo poi con altre tre maglie alte ho subito la diminuzione. Lavoro in questo modo, vado a fare come ho fatto con le maglie alte. Quindi sulla terza maglia alta vado a lavorare una maglia alta e chiudo a metà. E sulla diminuzione un'altra maglia alta e chiudo a metà. E quindi qui ho un'altra diminuzione. Questo lo ripetiamo da questa parte e dall'altra parte. Quindi se non vi ritrovate con le tre maglie alte basta fare come abbiamo fatto con due maglie alte chiuse insieme. Giro il lavoro e qui lavoro una maglia alta e qui vado a lavorare un'altra maglia alta. Come abbiamo fatto dove abbiamo il punto V e qui abbiamo un'altra diminuzione. Vado a lavorare il punto V sulla maglia centrale. E proseguo fino dove ho lo scalfo. Lì lavoro normalmente. Quindi qui vado maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a fianco maglia alta, catenella e maglia alta e mi ritrovo dove ho lo scalfo. E sulla seconda maglia alta vado a lavorare due maglie alte. Adesso giro il lavoro e vado a lavorare il giro di maglie alte. Lavoro la prima maglia alta, vado a fianco maglia alta e vado ad arrivare dove ho la scollatura. Ho lavorato il giro di maglie alte, qui non vado a fare più diminuzioni perché mi ritrovo con 19 maglie alte che corrispondono all'incirca 9,9 cm e mezzo e 19 maglie alte sul dietro. Quindi mi fermo con gli aumenti e vado a lavorare maglia alta su maglia alta. Lavoriamo normalmente. Vado a girare il lavoro e anche qui inizio senza fare diminuzioni. Lavoro maglia alta su maglia alta. Così vado a proseguire come abbiamo lavorato il sotto della nostra canotta. Poi dobbiamo arrivare ai nostri centimetri, nel mio caso sono 18. Quindi da questo punto vado a lavorare fino ad arrivare a 18 cm. Terminato tutti e due i pannelli. Questa è la scollatura. E questa è la parte dello scalfo. Ho messo i pannelli contro perché dobbiamo cucire. Questa è la parte del diritto, l'ho messo all'interno e la parte del rovescio all'esterno. Siccome non abbiamo un dritto e un rovescio, decidete voi qual è il vostro dritto e qual è il vostro rovescio. Come vedete la scollatura che poi andremo a rifinire sia sullo scalfo che sulla scollatura. Ricordatevi il passaggio quando lavoriamo le maglie alte, saltando le due maglie di base, quindi il gruppetto di tre maglie alte. Se non vi ritrovate con le ultime tre maglie alte, lavorate due maglie alte chiuse insieme. Come fate qui, dovete fare anche dall'altra parte, così vi ritrovate con il motivo giusto. Lo fate sul davanti e sul dietro. Questa è la mia canotta. In totale sono un totale di 50 cm. Quindi questo è il sotto. E adesso andiamo a cucire il davanti con il dietro. Ripeto, questa è una taglia M. Per quanto riguarda il materiale per me, ho utilizzato, per la mia taglia, ho utilizzato 250 g di filato e me l'è avanzato un bel po'. Se volete lavorare le maniche, anche se facciamo lo scalfo, volete fare una piccola manica o farla più lunga, dovete prendere almeno due gomitoli in più. E se volete allargare, un gomitolo in più va bene, però meglio prenderne due per non sbagliare. Adesso andiamo a cucire con ago e filo. Quindi andiamo a fare sulla spalla e anche sul fianco. Facciamo delle piccole cuciture, prendendo la spallina del dietro e del davanti. Io ho lasciato un filo un po' più lungo e vado a prendere. Con l'ago entro da una parte e poi esco prendendo tutte e quattro le asole. Ecco come si presenta una volta che abbiamo cucito la nostra canotta. Per quanto riguarda il cotone, è molto leggero, il punto è un vedo o non vedo, sotto possiamo mettere anche solo il reggiseno, non si vede molto, non è molto trasparente. Ho fatto sul dietro e poi sono andato avanti con maglie basse tutto intorno. Ho rifinito anche per quanto riguarda lo scalfo manica. Ho lavorato delle maglie basse per rendere più omogeneo il punto. Adesso vi faccio vedere come lavorare sulla scollatura. La stessa cosa faremo anche per quanto riguarda intorno allo scalfo. Quindi in ogni barretta di maglia alta lavoreremo una maglia bassa. Quando invece ci troviamo qui alla punta del centro del davanti, dobbiamo fare una diminuzione di tre maglie basse per far venire più appuntita la nostra curva. Quindi vado a lavorare maglie basse in ogni barretta disponibile. Lavoro l'ultima maglia bassa e mi ritrovo proprio dove ho il centro. Quindi qui una maglia bassa, prendo il filo e non chiudo. Vado dove ho il centro, prendo il filo e non chiudo. Vado dall'altra parte, prendo il filo e non chiudo. Adesso chiudo tutte le asole insieme. Man mano che andiamo avanti con la lavorazione, poi vedete come si vede bene la punta. Io ho fatto solo un giro di maglie basse, ma se volete continuare con un secondo giro potete farlo tranquillamente. E qui lavorate sempre tre maglie basse chiuse insieme per far venire, per far girare bene la scollatura. Per quanto riguarda qui, dove abbiamo lo scalfo, in ogni barretta lavorate due maglie basse. E per tutto il giro, comunque quando andate a lavorare le maglie basse, vi rendete conto se dovete lavorare due maglie basse in una barretta o una. Perché volendo potete stringere anche un po' lo scalfo. Questo è il risultato finale, un punto molto semplice e adatto proprio per questi periodi. Per quanto riguarda il colore, è un colore molto bello e molto acceso. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto. Seguitemi e ci vediamo presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!